Ciao, io sono tecnologico. E posso fare a meno di voi quando voglio. La gente non mi piace, suda, ansima, piange. Il mio computer? Mai! A volte mi scrivo una mail al mio indirizzo e poi mi rispondo. E dopo vado a leggere cosa ho risposto. E leggo con meraviglia quello che mi sono scritto. Sono autosufficiente. Su Youtube c'è un mio filmato. A volte lo voto. E su Facebook ho messo la mia foto. E dopo averla vista mi sono messo tra i miei amici. Ho comprato un computer nuovo, un milione di megahertz. E posso comunicare con me stesso in qualsiasi parte del mondo io mi trovi. Ho una macchina digitale, due miliardi di pixel. Mi fotografo con l'autoscatto e mi ringiovanisco con Photoshop. Per vedermi ho una tv ad alta definizione da 600 pollici. Mi vedo in tutti i particolari. Posso ingrandirmi quanto voglio, divento enorme. Non parlo più con nessuno da tre anni. Ma mando sms a migliaia, tutti i giorni. E mi trovi su MySpace, su Badoo. E ho un sito tutto mio. E ho un sito tutto mio. E ho un sito tutto mio. Faccio anche l'amore in chat. Ed ho un mio blog. Ed ho un mio blog. Non ho più sentimenti. Ma molti, molti download. Moltissimi. Io sono tecnologico. Io lascio gli altri indietro. Indietro. Ecco, mi giro e nemmeno li vedo. C'è nessuno? C'è nessuno? C'è nessuno lì? C'è nessuno lì? C'è nessuno lì? Beh. Meglio così. Meglio così. Grazie a tutti.